Vuoi portare al livello supremo il sapore dei tuoi piatti? Il segreto è Blue Cooking Style, la nuova generazione dell'anti-aderenza e della perfetta cottura. Lo stupendo stile pietra blu per un set di 5 pezzi di alta qualità, dettagli deluxe e il rivoluzionario rivestimento con garanzia zero grassi durante la cottura. Ordina subito il set completo di 5 pezzi con coperchi in vetro e valvole calibrate, con gradevolissimi manici soft touch. Coperchi in vetro di alta qualità, potente rivestimento pietra blu, valvole calibrate per la cottura, esclusivo fondo spider multistrato. Ora hai scoperto il segreto per portare ad un nuovo livello i sapori e la fragranza dei tuoi piatti. Il segreto è Blue Cooking Style, ed è ad un passo da te. Ordina subito il set completo di Blue Cooking Style. Non perdere questa occasione.